GeoStudio Italia, il tuo canale per una vita più sana e felice. Ciao a tutti e benvenuti su GeoStudio Italia, il canale dedicato anche al tuo benessere. In questo video scopriremo 5 modi efficaci per mantenersi in forma e sentirsi al top. Muoviti, l'esercizio fisico è fondamentale per la salute del corpo e della mente. Scegli un'attività che ti piace, come camminare, correre, andare in bicicletta o nuotare e dedicale almeno 30 minuti al giorno. Non importa se sei un principiante o un atleta esperto, l'importante è muoversi. Mangia sali, la dieta gioca un buono chiave nella salute e nella forma fisica. Scegli cibi nutrienti e ricchi di vitamini, sali minerali e fibre e limita il consumo di ciro, spazzatura e bevande tricherate. Prepara i tuoi pasti a casa per avere un maggiore controllo sui ingredienti e sulle porzioni. Dormire a sufficienza, il sonno è importantissimo per il recupero del corpo e per la concentrazione di vita. Cerca di dormire almeno 7 a 8 ore a 9. Crea una routine rilassante prima di andare a dormire per favore del sol. Ciao e bentornato su Geos.itano. Rimani collegato e iscriviti al canale attivando la campanella. Bevi tanta acqua. L'acqua è essenziale per il corretto funzionamento dell'organismo. Bere acqua durante il giorno aiuta a mantenere il corpo idratato e a decorarsi dalle tossine. Porta con te una bottiglia d'acqua per bere sempre durante la giornata. Gestisci lo stress. Lo stress può avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale. Trova dei modi per rilassarti, come fare yoga, meditare o ascoltare musica. Fai una pausa dalle attività quotidiane dedicati a te stesso. Con un po' di impegno e costanza è possibile mantenersi di fuori e migliorare la propria qualità di vita. Non esitare a mettere in pratica i consigli di questo video e a seguire Geostudio Italia per un mondo più sano e pieno di energia. Bene, con questo video abbiamo terminato. Alla prossima da Geostudio Italia.